ok prossimo concorrente per questo campionato nazionale di beatbox direttamente dall'emilia romani è già sul palco sono giù sono giù uomo siamo pronti in tre o i 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 e C'è bella no! 10, 3, 2, 1, go! Biffy, biffy, biffy!